Ben ritrovati, buon venerdì 11 settembre, ben ritrovati con le notizie dal web della città, cominciamo quest'ultima edizione della settimana come al solito con la viabilità, andando a sentire dalla voce di Walter Gerbi, dalla centrale operativa dei vigili urbani, quali sono le notizie di oggi. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del comando di Polizia Municipale di Torino. Buon venerdì 11 settembre, le notizie di oggi, semafori manutenzioni via Roma, angolo via Buozzi, la Fiat Porta numero 3, piazza Nizza, angolo via Argentere e Donizetti, strada Aeroporto, angolo strada del Francese, Corso Casale, nei prespi del Capolini, linea 15, via Laguglio, all'incrocio con strada di collegamento per piazza di Gustavo Moten e via Solaroli, corsi Naudi, angolo via Cassini e Galliano, corsi De Gasperi e Govone, corso Massimo d'Azeglio, angolo corso Dante. Al Parco Ruffini, sino a lunedì, festa democratica, sino al 2 ottobre, presso l'ex manufattura tabacchi di Corso Regio Parco, iscrizioni universitarie. Settembre musica, Mito, Torino, Milano, Festival Internazionale della Musica, sino al 24 settembre. L'Una Parca, al Parco Ruffini, sino al 27 settembre, riprese cinematografiche in piazza Cavour, festa annuale del Partito della Libertà, in Corso Bernardino Telegio, sino a domenica 13 settembre. Presidio CGL, sino a oggi in piazza Carlo Alberto, per la grave situazione scolastica dovuta ai pesanti tagli degli organici. Sino al 31 ottobre, presso la sede dell'ufficio di igiene di via Consolata 10, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9.30 alle 11.30, controllo gratuito, commestibilità funghi. Sino a fine dicembre, forti rallentamenti in strada dell'aeroporto, angolo strada delle francese e strada Lanzo, per Borgaro, Casella e Torinese, per realizzazione nuova viabilità. In mattinata, trasferimento dei rifugiati dell'ex clinica San Paolo all'ex caserma di via Asti. Dalle ore 14.30, presidio dipendenti delle aziende Ilmas di Rivoli e Osu di Orbassano, fronte sede giunta regionale di Cazzo Castello. Dalle 19.30 alle 22, fronte sede Rai di via Verdi, presidio CGL Cisle Will, situazione scuola, manifestazione gioc, gioventù, operare cristiane, in corso cadore 20, la sera alle ore 21, serata dibattito tra i giovani, commercianti del quartiere e organizzazione sindacale del settore. Dalle ore 18.30 alle ore 24, cinema in strada, sino a domenica in Largo Saluzzo. Alle ore 17.30 in piazza Castello, alle ore 19 in piazza Vittorio Veneto, quintetto di ottoni per Mito, festival internazionale della musica. Alle ore 10.30, presso la caserma Cernaia, giuramento allievi del 126esimo corso. Alle ore 20.30, processione parrocchia Nostra Signora della Salute, piazza della Vittoria. È tutto, buona giornata, buon viaggio. Grazie Walter, buon viaggio anche a te, buon viaggio a tutti i nostri ascoltatori. Passiamo a vedere la situazione del tempo in città, lo facciamo con le rilevazioni dell'Arpa Piemonte che come al solito trovate sulla nostra homepage, alle ore 8 sono stati rilevati circa 15 gradi e mezzo. Ieri la massima si è girata intorno ai 30 gradi, 29,8 alle 14.35. Per quest'oggi ci aspettiamo, come vedete anche dalle previsioni in sovrimpressione, un cielo sostanzialmente sereno. Nella notte però, intorno alle 2, dovrebbe iniziare a piovere, ci saranno piogge sparse lungo tutta la nottata e anche la giornata di domani. Il bel tempo tornerà poi domenica con comunque temperature in discesa, sia dal punto di vista delle massime che delle minime. Vediamo gli appuntamenti istituzionali anche previsti per oggi, alle 11 a Palazzo Civico nella sala dei capigruppo per il diritto di tribuna, ci sarà la petizione popolare al Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento sul riconoscimento di pari opportunità per le unioni civili. Alle 11.30 poi due appuntamenti, la conferenza stampa dell'assessore Tricarico sul nuovo bando di sostegno alla locazione e la conferenza stampa al circolo dei lettori dell'assessore Alfieri, in cui si presenterà il programma di Torino Spiritualità. Vediamo anche le notizie di Torino Click, la nostra agenzia quotidiana che pubblica l'ufficio stampa tutti i giorni. Le informazioni che abbiamo selezionato sono la prima relativa alla circoscrizione 5, dove domani ci sarà una grande festa alle 18 con il restauro completato dell'orologio della Torre Campanari a sede della circoscrizione, alle 18 dicevo il sindaco sarà il campanaro della situazione perché darà il via nuovamente al meccanismo dell'orologio che è tornato a funzionare, ci saranno poi ovviamente concerti per animare tutta la serata. La seconda notizia invece è quella relativa alla notte dei ricercatori che si terrà il 25 di settembre a Torino, a cominciare dalle 15 in piazza Vittorio Veneto, ci sarà anche in occasione di questa notte dei ricercatori un'apertura straordinaria del museo di anatomia e del museo della frutta a partire dalle 18, ma tutte le informazioni le trovate sul sito www.nottedeiricercatori.it. Passiamo a vedere invece le notizie della nostra home page, le notizie del sito della città, lo facciamo andando a vedere la notizia selezionata per voi quest'oggi, si tratta del 61esimo Pri Italia, una 61esima edizione di questa manifestazione nata nel 48 che si svolgerà qui a Torino dal 20 al 26 settembre, saranno circa 87 gli enti radio televisivi privati e pubblici in rappresentanza di 46 paesi a partecipare a questo evento, ulteriori dettagli li trovate a partire dalla notizia. Andiamo a vedere anche le webcam del consorzio 5T per dare un'occhiata a quello che è il traffico in città, cominciando dalla rotonda Maroncelli, della rotonda al fondo di Corso Unità d'Italia, come vedete qui il traffico è decisamente presente in Corso Trieste per immettersi nella rotonda. Passando invece a Piazzale Caio Mario la situazione è un po' più tranquilla, qualcosa su Via Noratovigliani ma niente di tragico, anche dietro la stazione di Porta Nuova in Corso Turati non ci sono grossi problemi, qui siamo all'incrocio invece tra Corso Agnelli e Corso Cosenza, traffico normale per quest'ora del mattino, chiudiamo con il rondò della Forca dove la situazione come vedete è assolutamente tranquilla. Per ulteriori notizie ovviamente vi rimando al sito della città che trovate alle mie spalle prima di lasciarci però l'appuntamento di Mito Settembre Musica di quest'oggi alle 17, vi aggiorneremo poi ovviamente nel pomeriggio nella nostra edizione culturale su quanto avverrà questa sera e nel weekend alle 17 al Conservatorio a ingresso gratuito abbiamo il recital di violino e piano con Edoardo Zosi al violino e Alexander Mazdar al piano si eseguiranno musiche di Janacek Forè e Richard Strauss. È davvero tutto, allora vi salutiamo per questa settimana, l'appuntamento oggi alle 16.15 con la nostra edizione culturale, grazie, buon weekend, grazie a Mario Parene e Luca Ulliana per la messa in onda.